Ha rispettato le attese la dodicesima sagra del fungo porcino che si è svolta a Castelpagano in provincia di Benevento. Diverse migliaia di persone hanno affollato gli stand per gustare primi, secondi e contorni a base di funghi porcini raccolti nei boschi che circondano il paese. L'evento è stato organizzato dal comune con la partecipazione di Slow Food. Questo per noi è un appuntamento importante perché permette a Castelpagano, nel territorio di Castelpagano di proporsi all'esterno e la gente che viene alla dimostrazione. Cerchiamo di anni e anni di migliorare questa manifestazione appunto per offrire sempre qualcosa in più rispetto agli altri anni. I prodotti territoriali di Castelpagano, ripeto, noi puntiamo molto sul concetto di presidio e sulla comunità del cibo che è il progetto che precede la creazione stessa di un presidio. Il presidio del Natte Nobile è il primo presidio di latte al mondo e noi siamo ben felici di averlo qui nella nostra piccola realtà. Piccola ma grande se vogliamo perché Slow Food ritiene grande tutto ciò che è piccolo. La salvaguardia della biodiversità prima di tutto. La tre giorni è coincisa con il penultimo venerdì, sabato e domenica di settembre, periodo propizio per la raccolta dei funghi porcini. Un'occasione per far conoscere le prelibatezze del territorio attraverso un percorso della salute e del gusto che coniuga l'amore per l'ambiente e le tipicità ludiche e culinari del luogo. Il tutto allietato dallo spettacolo musicale in piazza Municipio. Il menù di quest'anno è fatto da frittelle alla sannita. Inizia con delle frittelle alla sannite che sono delle zeppoline fritte, quindi molto semplici da preparare però appoggiate su una zuppetta di verdure del posto. Poi abbiamo un crostino gastronomico che in realtà è il pane casereccio che noi creiamo delle bruschette sempre a base di fungo porcino con pomodorini e verdurine sopra. Poi abbiamo il risotto che non può mancare perché è richiesto ogni anno il risotto con i funghi porcini. E tra un piatto e l'altro è stato presentato anche il volume Castel Pagano nel contesto feudale tra Capitanata e Contato di Molise di Giuseppe Santoni e Stefano Vannozzi.